In realtà non mi sono rivolta. Stupore e sorpresa, ecco il senso vissuto dal consigliere comunale Anna Rosa Sessa nell'apprendere i costi reali per riportare all'antico splendore lo storico fabbricato Manzoni che ha ospitato per anni il primo circolo didattico di Pagani. Alcuni milioni di euro che non sono facili da reperire per cui ad oggi diventa complicato iniziare i lavori. L'istituto Manzoni è lì, è chiuso, il comune ha partecipato ad un progetto nazionale. Io mi auguro che arrivino i fondi per quell'istituto affinché possa rinascere dalle sue ceneri, affinché possa tornare ad essere fruibile per gli studenti. Nel frattempo c'è ancora questa situazione un po' particolare perché gli alunni della Manzoni sono appoggiati in vari plessi però c'è da dire un'altra cosa, che l'amministrazione ha perso altri finanziamenti per le scuole che avrebbero potuto essere utili per riqualificare anche altre scuole cittadine. Si chiede, lo chiede all'amministrazione Bottone, a quanto ammontano i debiti fuori bilancio? Quanti se ne dovranno ancora approvare? Quante sedute si dovranno svolgere ancora per approvare debiti che escono fuori come i funghi? Quanti debiti ha questo comune? Questo è un mistero, anzi noi abbiamo chiesto più volte di avere lo stato del contenzioso dell'ente ma non ci è mai stato dato, a volte ci viene dato qualcosa ma poi escono sempre debiti nuovi che ci tengo a sottolinearlo non arrivano da precedenti gestioni come qualcuno vuole dire ma sono frutto di questi ultimi anni di gestione Grazie a tutti